L'Amministrazione del Sud Notico, del Nord, della provincia di Caserta non debba avere chiara la situazione, perché non debba avere a disposizione tutta la documentazione, perché non debba avere ad oggi certezza di quanto si sta facendo, perché ci dobbiamo interloccare, perché ci dobbiamo proprio il problema di andare a chiedere l'Uni su quanto si sta facendo. E allora di qui è legittimo il dubbio che qualcuno insinua, vale a dire, perché si parla di più, questo che suppone, no, e il discorso che si sviluppi poi sono di più, di tre, ma noi ci sono altre cose, allora forse è legittimo quanto qualcuno afferma che il sospetto dell'anticamera della verità, ma tutto questo poi, no, è sotteso da una logica dominante, che è quella che, diciamo, con cui abbiamo aperto questo ragionamento e con cui ho detto in particolare non potesse, ma se gli impegni assunti già dieci anni fa parlano di decommissioning, di chiusura di questo processo decommissioning, entro il 2016. Allora come si comoda la compatibilità di un mostro da 10.000 metri subito di cemento armato con un risultato di nave che dovrebbe restituire a Prato Verde unare alle nostre collettive. Ci sono dei punti, ci sono dei punti domande che necessitano di questo nostro grazie.